Attendevano questo momento da oltre due mesi. Lunedì prossimo, 18 maggio, anche l'estetista e i parrucchieri potranno riaprire l'attività. Sono da tante settimane che ci chiamano, chiedono costantemente quando sarà il giorno della riapertura, perché comunque tutti hanno bisogno di un parrucchiere o di un estetista. Le saracenesche tornano a rialzarsi nelle marche grazie all'ok del governo e ai protocolli della regione che dettano le misure anticontagio da rispettare. Tra le regole comuni, l'utilizzo di guanti e mascherine, gel igienizzanti e locandine informative affisse in posti ben visibili. Inoltre, clienti solo su appuntamento, distanze di sicurezza e niente tavoli, cuscini e riviste in sala d'attesa dove potrà rimanere soltanto una persona. Abbiamo acquistato i gel igienizzanti per le mani e per il nostro lavoro ci siamo muniti di mascherine, guanti e visiere per lavorare, magari quando la vicinanza è molto poca. Come riuscirete a dividere gli spazi? Allora, qua abbiamo cinque posti lavoro e comunque vanno tutti un po' alternati. Una cliente la mettiamo qua, una cliente comunque, visto che ci deve essere un metro e ottanta di distanza, la faremo accomodare in questa postazione qua e ce n'è un'altra qua dietro, di conseguenza comunque sono tutte distanziate l'una dall'altra. Le disposizioni prevedono anche l'applicazione sul pavimento di scotch colorato per delimitare gli spazi e le distanze minime di un metro e ottanta lineare, l'obbligo di sanificare gli ambienti e di sterilizzare gli strumenti dopo ogni utilizzo. Dopo l'utilizzo delle spazzole le mettiamo in questo sterilizzatore che è praticamente uno sterilizzatore germicida, giusto per togliere magari a livello blando un pochino il contatto che c'è stato con l'altro cliente. Poi bastano dieci minuti, dopo per altri dieci minuti le mettiamo in questa vaschetta che all'interno c'è dell'acqua e c'è una polvere, questo qui è un paracetico, che serve proprio per andare a sterilizzare e a togliere tutti i germi sia del coronavirus oppure magari di altri germi. Misure aggiuntive sono previste poi per i centri estetici, sarà necessario evitare gli assembramenti, tra un appuntamento e l'altro bisognerà lasciare almeno 20 minuti per sanificare cabine, lettini e attrezzature varie. Si richiede poi l'utilizzo di soprascarpe, camici, teli e accessori monouso. Siamo molto contenti di iniziare, di ricominciare e non vediamo l'ora, le clienti sono molto molto contenti e non vedono l'ora di essere, insomma, di mettersi a posto. Anche prima igienizzavamo tutto, anche perché il salone, il centro estetico comunque ha bisogno di autoclave, di mezzi di sterilizzazione e tutto questo avevamo già da prima. Ho visto che avete acquistato anche un pannello in plexiglass per quanto riguarda la cura delle mani. Sì, abbiamo preso anche il plexiglass per le mani, per la sicurezza della cliente, ma anche per me, per essere più tranquilla. Siete emozionati per questo ritorno? Tantissimo, tantissimo, non vedo l'ora, sono veramente molto contenta. Le clienti mi hanno dato tanta soddisfazione anche durante la quarantena, mi hanno chiamato, ho chiamato io a loro e quindi non vedono l'ora.